Quando si è innamorati si investe in questo sentimento, si supera ogni ostacolo, si crede nei sogni e si fa di tutto perché si realizzino. E i salentini sono sempre più innamorati della campagna. In provincia di Lecce gli agricoltori professionali crescono del 16,2%. San Valentino allora è tutto dedicato alla terra, nella giornata che Coldiretti ha pensato e organizzato per celebrarne i frutti. Un mercatino è stato allestito in piazza Ludovico Ariosto, fiori e calici di vino a chilometro zero sono stati offerti a tutti e i produttori hanno potuto incontrare il vice ministro allo sviluppo economico Teresa Bellanova e confrontarsi direttamente con lei. Questo è un settore importante perché la green economy è valutata in modo molto positivo da tanti ragazzi e tante ragazze e noi dobbiamo appunto dare gli strumenti per attrarre sempre di più. Io continuo a dire che quando anche mio figlio considererà questo settore come un settore di interesse noi avremo fatto fino in fondo il nostro dovere. Ho chiesto al presidente della cabina di regia di valutare nella possibilità di inserire le aziende nella catena di lavoro agricolo di qualità un elemento e cioè la grande distribuzione deve dire alle imprese che saranno valutati positivamente quelli che si impegnano a distribuire i prodotti fatti in Italia, i prodotti fatti dalle aziende che stanno nella cabina di regia, i prodotti che vengono appunto raccolti e trasformati rispettando i diritti dei lavoratori. Questo mercatino di campagna amica a Lecce e qui in piazza Ludovico Riosto è un centro di incontro e non solo un modo per venire a fare la spesa è anche un modo e un punto dove le persone si incontrano, dove i coltivatori incontrano i consumatori.